dallo shopping natalizio a un incubo che sembrava senza fine. Una bambina dell'Alabama Lacey Jane Ayers era finita in fin di vita sabato scorso dopo un incidente stradale gravissimo. Lacey la madre, il padre e il fratellino che erano presenti hanno riportato solo delle gravi ferite. La bimba, invece, ha riportato gravi traumi sia a livello cerebrale che al collo. Da giorni era ricoverata in terapia intensiva al Children's Hospital di Birmingham e non dava segni di ripresa. Ormai i medici avevano perso ogni speranza. Tanto da contattare la famiglia per l'ultimo saluto prima di staccare la spina. Ma proprio all'ultimo momento, la piccola ha riniziato a respirare e a muoversi. Un miracolo, è la famiglia ripiompata nella gioia. Il percorso per la piccola ancora lungo e bisogna raspettare per vedere se alcuni danni cerebrali sono permanenti. In ogni caso il peggio sembra essere passato. Come riporta il Daily Mail. La dottoressa che la segue è rimasta molto soddisfatta dei progressi della piccola durante le ultime ore e lo zio l'ha visitata qualche giorno fa. L'ho visitata e mi ha stretto la mano. Ha detto. Altro su MSN. Biotestamento. Cappato. Un primo passo. Puntiamo all'eutanasia e al suicidio medicalmente assistito. Corriere TV. Sponsorizzato maggiore maggiore offerta office per lei famiglia. Un solo acquisto valido per 5 pc e 5 tablet. Scarica subito maggiore maggiore.